Cagliari a Bruxelles in un attimo, o meglio non proprio in un attimo perché ci sono stati dei piccoli intoppi ma alla fine ce l'ho fatta. Sono qui perché domani trascorrerò una giornata insieme agli amici di BMW al Tomorrowland e ovviamente vi porterò con vento a questa nuova esperienza e guardate in aeroporto che accoglienza. Per me è la prima volta al Tomorrowland e sono proprio curiosa di vedere come sarà. Tomorrowland è un festival di musica prettamente elettronica, ci sono tantissimi DJ da tutto il mondo che suonano, anzi magari dopo vi posto una foto della line up, abbiamo già segnato i DJ che vogliamo andare ad ascoltare. Ieri sera per esempio c'erano Tiesto, Stivangello, mi sarebbe piaciuto molto andare ad ascoltarli ma vabbè ce li facciamo oggi. Sono 16 palchi in tutto lo spazio quindi tantissimi, ci saranno due weekend questo e il prossimo e si contano anche dalle 150 alle 180 mila persone quindi davvero pieno. Tra l'altro la caratteristica il Tomorrowland è famoso perché ci sono questi palchi decorati a tema fantasy, ci sono delle decorazioni davvero fantastiche, incredibili e poi faranno fuochi d'artificio, spareranno coriandoli, fumo. Insomma sarà davvero uno spettacolo bellissimo da vedere e niente ci sentiamo tardi. Io ero sotto la doccia. Samara. Dai! Praticamente la prima impressione è che siamo a Gardaland. Praticamente la prima impressione è che ci sono 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 Praticamente la prima impressione è che ci sono